Salve a tutti ragazzi, benvenuti a un altro episodio di Don't Starve Allora, dovremmo rimasto l'ultima volta? Indubbiamente devo terminare la mia caccia ai conigli So, sai che posso catturarli con il boomerang? Posso dire sì? Allora, sento dei cani Ma qui c'era un coniglio, adesso non c'è più Andando giù di testa, beh No problem No fucking problem Tutta questa merda penso che la lascerò lì Non mi serve Siamo più coniglietti Ho l'armatura? Sì Ho anche una melanzana in caso Ok, arriviamo di qua Conigli? Ma che non ci sono conigli? Doe diavolo sono? La cosa che mi sfugge Mh Vedi coniglietti pelosi Mi siete Ricordiamo un po' di sta roba qua Ahah E uno Oh no, si è rotto E un altro, non temete Ragni Sono una marea di Nightmare Fury Ma Andatevi a ragni Non vi voglio Coniglietti E' lo solo Nightmare Fury Onestamente non ho neanche L'idea di come usare Dopo lo dobbiamo dire tutto 60 Accidenti Ce ne sono altre 5 faniglie Poi Non c'è più niente Fuck Mi muovo sempre la finestra Ah Però questo lo voglio Ok Ormai c'è io tutti una cosa che ci vuole Ring, Thing, Box, Thing E c'è un'altra cosa Calma Vai Doc Oh Si 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 A me A me Mi manca solo Un Un Pelo di coniglio Che Ho come l'impressione che Non troverò oggi Vediamo che sta venendo sera Dov'è 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 Qua Ah Sono anche lieto di annunciarvi che il mio tasto D è tornato Se le tastiere della radar sono piuttosto solide per fortuna Allora Ehm Guarda la balza Ua Non so Ah no ancora dieci direi Più che suff No Non so come aumentare la mia sanità E la cosa è un problema Ci sono un popcorn Ehm Pianta Allora Puosiamo qua il popcorn Ok Ma neanche cosa avevo qua che non mi ricordo più assolutamente Un bel niente Ehm Gears No Ok Boxing Ring thing E l'altare dov'era Mi sono diventato anche l'altare ma lo sono sicuro Rocks Marble Ok Ma dovrei fare Il Lo shadow manipulator Allora le anime le posso trovare bastante facilmente Questa non ho idea di come si trovi Questa neanche Quindi Bene Qua E non c'è Ah non c'è di petali Ma molti petali C'è di più Sto a raccogliere degli altri Perché La mia coroncina qua sta andando a Un po' a buttare Hmm Doi fare un altro boomerang forse E' l'arma definitiva Dov'è? Qua Si ce le ho i materiali volendo Quindi Anche se adesso lo faccio Allora Fatemi prendere una Nutella Carbone E Facciamo questo Facciamo un altro Non bene Poi rimettiamo giù questa roba Che non voglio passare Mettiamo giù anche Questo no Ok Devo anche recuperare Chester In teoria Tipo Hai i peli Mi sono parati tutti dietro Vero? Non ce li ho in giro Però Mettiamo giù anche i peli Questo no Nei comu che non ce li ho dietro Ehm No il resto Lo tengo Perché Dovrebbe servire Non so questo se effettivamente serve Quindi Devo accire qua Ah dovrei fare anche una Croc pot Tipo Che mi sa che E' in funge Non ho Il carbone però Mettimo andare giù la mia sanità Porca nigeri Oh oh Non so dopo quanto inizio ad attaccarmi Allora giù ci sono dei coniglietti quindi Andiamo a recuperare Chester domani Ah 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 Qual'è questo? Un icebox Questo è? Boh Forse per Asciugare Ah potrei farmi anche un rettino Iniziare ad andare a prendere un po' di api Ehm Stanno arrivando anche i cosi Mi sa Ok Cos'è che volevo fare? Hello Vediamo se arrivano Sono arrivano stasera e arrivano domani quindi Non è che sono un grosso problema agli hound onestamente Ok Mi sento Buongiorno Ok Spero che al mio ritorno sia del cibo Ah Aia Sono un pirla Vabbè Mangiamo La melanzana Ah si consuma anche il doppio se non lo riprendo Ehm Andiamo Andiamo Ah si Ah si Ah 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 mi estremo altri Vado andare in giù Non andare in giù Negli Uncciù Stupida perle Cosa fai maletti Cosa fai maletti C'era un altro Cosa Se mi vedo fuori dal range degli usuali di quelli Oh no Non lo credo Hop Ok Ah qui c'è sempre il mio Babam Siii Ok Allora questo è già attivo Non sbaglio Ah no Ok Asso attivo Beh già che ci sono Non volevo dei pelli Questi qui danno una fiume Eccola qua E Era utile a qualcosa Non mi ricordo a cosa Oh merda ho anche finito Sto finendo tutto Ok Guarda Chester Chester Qua sotto Tu Ok Ah Devo prendere anche lui Chester Doè? Eccolo qua Come on Chester Si l'ha incastrato sto qui Vai Vai Ah Ci sono tra quanto è che Potrò restare attaccare Quegli affari E quegli affari Mi attaccheranno Cosa c'era qua? Ah I fiori ecco dove erano Lol Ah vabbè Qui ci sono le piante Che potrebbero interessarci Se riesco a battere un altro Quegli uccelli invernali Non mi ricordo cosa ci si faceva però Dai come on Andiamo a venire attaccati Così scappano quando arrivi Ok 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 Ancora un lancio Ehm Qui Voglio uccidere Aia Ok Andiamo a ammazzare un buffalo Uniamoci di Armatura Ehm Di lancio Ok sono qua i bufali Ho uscito ad escarne uno Senza che mi venga addosso la madonna Ok Adesso scappiamo Fino a quando Mi giocando non ho smesso di seguirmi tutti tranne uno Poi l'ho di esco ancora un po' che in là Dai Su Uno di voi due Si cavi dalle palle Ok Nooo L'ho stato lontano l'alto Dai che saranno da sera Che congelo Ok Deve essere fuori Un po' di Un po' di Un po' di Ok Chester Non ci si rinco niente solo Ok Anche questa erba Andiamo a Andiamo a Chester Dai Chester Come on Beh Grazie Chester Ho un'ascia Spero di si Che non ho legno Sto anche congelando Oh Beh la pala Ok Va bene Spero qua devo raccogliere quante mattina Purtroppo Chi si sta No no non è vero Oddio Oh Ok La strata di tasto Allora Scendiamo un po' di fuoco Bene Mangia... mangiamo Facciamo Ok Andiamo a raccogliere questa la prima cosina notte Uno Non ho neanche recuperato lo zaino Deve rauppirla Qua Qua La zucca non so dove metterla Chester Grazie Chester come on Andiamo Che qua Chester Pop pop Benissimo Almeno lo posso mangiare Ok Non so proprio come fosse la sanità Ed è... Abbiamo sentito un problema Ho avanti 10 nightmare fuel Che cosa fare Clean light Shadow manipulator Allora Quei cavolo di hound Mi fanno Mere ansia Non so mai quanto sono vicini Oh merda Oh merda Oh 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 merda Luce adesso Devo ricordarmi di tenere sempre una torcia Molto non ce l'avevo altrimenti Ero spacciato Ok Eh... La mia sanità non sta andando bene Non so come diavolo alzarla Sicuramente devo trovare Anche piovendo seriamente Sto arrugginendo Oh nooo Ok Ora Oddio santo Facciamo la myth FG Anzi Prima piantiamo i semi Non so quanto si mette in inverno a crescere Non è che il berrettino Non è che il berrettino Cosa è che si faceva Non mi ricordo più Ci guardi Allora Cappelli Guarda Ti vuole Qualcosa qua Beekeeper Winter Mi sa che ce l'ho sta roba no? Questo ce l'ho Eeeh Eeeh Questo ce l'ho Bene Winter hair Tadaaa Ah mia sanità sta aumentando Bene Ok va bene il fuoco sto spegnendo Eeeh Ascia Allora Temo che dovremmo fare un'altra pulizia di questi alberi Quindi Preparatevi a un lungo abbattimento di alberi Ok Faccio che ci impegnerà tutta la giornata questa cosa più o meno E poi voglio fare la myth FG Come ultima cosa Aha Ok Sta interrando Nella parte interna degli alberi E' più misteriosa Ok Andando anche a caccia di fiori tecnicamente Però Questo ci serva legno anche perchè Non so cosa ci mettono a crescere durante l'inverno gli alberi E' più Ehi Possiamo se nevicare Che sparita di botto la neve Hai finito l'inverno o cold? Ehm Ma forse è già finito C'è un po' di asce Non ne userò Un bel po' Presumo Ehm Ehm A proposito Dove è il mio backpack? Qua Backpack Cioè penso che non me lo porterò dietro Perchè Perchè Mi serve posto per altre cose Però Almeno ho vuoto prima Voglio lasciare questi preziosi fiori Questo zaino Allora Mettiamo i fiori Qua dentro Le bacche qua dentro Questo me lo metto addosso E questo lo lasciamo a terra Lo torniamo Andiamo a tagliare alberi Facciamo se è incastrato Chester O Chester Che fa Fa al posto della Dai lì Come on Chester Non posso più dargli niente Magari questo lo puoi impilare E Puoi tenerti queste cose Mettiamo questa E tu ti tieni Questa Perfetto Ok Vediamo per quanto riusciamo a fare questa cosa Prima Che arrivino a ucciderci Vari mostri Non so se riesco a ripulirla Non penso a ciare ancora tutta da essere Allora ho un pomegran lì Una roba Ok rimettiamo la mappa Come era prima La 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 Oh no Fortunatamente ho Il mio Perfetto Sanvo Che mi sono passato bene a cibo e a Vabbè la la sanità quella L'ho messa peggio Già se riuscissi ad alzarla E' una buona cosa Vabbè, intanto continuo a tirare su i miei alberelli A buttarle giù qui e tirare su, però vabbè Avete capito, insomma Sto perdendo vita Vediamo Non so se li faremo in un'idea di vita So che può ammazzare, però Non so bene Se possa anche Perché adesso, sì, di solito Da quel che mi ricordo si congela il cuore Qualcuna proprio e A quel punto ci sono problemi Ok Andiamo a fare un altro Eh no, forse è più di un altro Due tacche La mattina finiamo e poi Non so se vi serve la cosa di fiori al momento Non penso onestamente Deve trovare delle tombe Però non so Non so dove la trovare Ok, questo è l'ultimo Direi E poi finiamo Quando viene il giorno Ok Vediamo anche questo E Quando viene il giorno Scaliamo tutto Tutto le nostre cose Bene Vediamo così E poi Prima cosa Tu hai del cibo E anche questo cesto ha del cibo Quindi Siamo qua Facciamo E Mangiamo Perfetto Poi Questa è da cuocere La 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 Per fare La Myth FG Allora Sono qua vicino In alchimia Magic Servono Semplicemente Quattro boards Che è il motivo Perché ho raccolto Questo legno E i peli La mettiamo qua Bene In teoria Se muoio Ho altre due vite Perché ho anche Il Ho anche l'altro altare Ergo Devono essere abbastanza a posto Abbastanza al sicuro Bene Direi che è tutto Per questo episodio di Don't Starve Vi ringrazio per aver seguito questo video Come al solito Se volete supportarmi Mettete un mi piace Condividete il video E mettetelo tra i piaceriti Come al solito ragazzi Ci vediamo Alla prossima puntata Di Don't Starve Dove Presumibilmente Finiremo con gli alberi E cercheremo dei fiori Ciao a tutti